Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, oggi vi spiego come trovare la pietra d'afforciatore funera del drago antico di livello 10, minchia che nome lunghissimo Allora il posto dove cercarla è qua sotto, è un posto difficilissimo da trovare ma per fortuna ho fatto due video su come arrivarci, quindi non ci vorrà niente Raggiungete questo posto, avanzate più avanti e lì, proprio lì dove sta il tizio che sta sorvegliando la statua, lì troverete un baule E all'interno di quel baule troverete la pietra d'afforciatore funera del livello 10, quindi quella del drago antico Un altro posto dove cercare questa pietra è qui, in questa terra dei draghi, quindi qua è semplicissimo da trovare, adesso vi faccio vedere in che punto Bene, siamo arrivati, minchia, qui ci vuole veramente una grande fortuna per passare questi uccellacci, veramente Io ero livello 50, adesso sono livello 200, prima morivo sempre, ma non capisco questi uccelli del cazzo che non muoiono, minchia Va bene, torniamo a noi, ora basta bestemmiare, basta lanciare cose offensive sugli uccelli, basta Quindi avanzate da questa parte, tanto adesso velocizzerò il video per non farvi annoiare Eccoci arrivati ragazzi, questo è il posto E lì, proprio lì, c'è la bella pietra del drago antico, proprio qua in mezzo Già l'ho presa, ho già potenziato al massimo la mia arma preferita Ultimo posto dove cercare è qui al sacro albero, tanto sta dopo la neve, è un casino arrivarci qua e oggi avevo capito niente Comunque questo è il posto dove cercare Bene ragazzi, ora potete divertirvi ad ammazzare i vostri nemici, avversari e giocare online Perché il video finisce qui, grazie a tutti per questa visione Grazie